buongiorno a tutti sono elisa salvalaggio e collaboro con l'istoreto l'istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea giorgio agosti di torino buongiorno io sono sarah zanisi e collaboro con fondazione isech di testo san giovanni e noi siamo le coordinatrici del gruppo di lavoro sulle fonti orali della rete pari e dal 2019 l'istituto nazionale ferruccio parvi insieme all'associazione italiana di storia orale hanno avviato un tavolo di confronto sul tema delle fonti orali un tavolo di confronto e di lavoro che ha avuto come frutto principale l'avvio del censimento degli archivi sonori audiovisivi della rete degli istituti della resistenza e i primi risultati di questo censimento sono stati presentati nell'ottobre 2019 a torino durante il convegno fonti orali in italia archivi e rigenerazioni e il censimento è tuttora in corso e prevediamo di concluderlo entro l'ottobre 2021 questa ricognizione che abbiamo in corso ci sta già confermando e ci sta facendo scoprire riconoscere che la rete conserva un importantissimo patrimonio ampio e ricco perché conserva migliaia di ore di registrazione sia in audio che in video relative appunto alla storia della resistenza e alla storia del novecento italiano è una realtà archivistica diffusa e capillare sul territorio nazionale ed è il risultato di decenni di progetti di ricerche promosse dagli istituti sono fonti davvero importanti preziose perché ci restituiscono una pluralità di sguardi di voci e di storie e di contenuti e sono preziose anche per il nostro futuro cioè per i progetti futuri di ricerca che che produrremo ma anche soprattutto per i progetti di didattica e per i progetti di valorizzazione e divulgazione della storia resistenziale soprattutto attraverso esposizioni sia permanenti che temporane e in particolare pensiamo che siano una delle fonti preziose anche per il lavoro che stiamo conducendo per la realizzazione del museo nazionale della resistenza che si aprirà a milano il nostro gruppo di lavoro ha tre principali obiettivi per il futuro il primo è proprio quello di mappare in modo capillare questo patrimonio per poter poi promuovere nuovi progetti di valorizzazione e di digitalizzazione delle fonti vogliamo poi promuovere degli incontri dei seminari e dei momenti di formazione all'interno della rete e infine vogliamo sperimentare le linee guida che stiamo contribuendo a redigere nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale per la produzione di un vademecum per il trattamento delle fonti orali è un lavoro che si concluderà anche esso nel prossimo autunno e verrà presentato il 27 ottobre di quest'anno in occasione della giornata internazionale del patrimonio audiovisivo ed è un lavoro che è stato promosso oltre che dalla rete degli istituti dal ministero della cultura e dal con i centri universitari noi vogliamo ringraziare tutti gli istituti che stanno seguendo e portando avanti insieme a noi questo lavoro e le voci della resistenza vanno censite e vanno conservate perché sono un patrimonio collettivo che va salvaguardato diffuso e valorizzato. Buona resistenza a tutte e a tutti!